Ok, noi siamo qui a Terra Negra, anzi via Forcellini dove c'è la chiesa di Terra Negra e stiamo organizzando la festa dello sport che va dall'1 maggio al 4 maggio. L'idea è quella di riuscire a organizzare qualcosa per i giovani per raccogliere sicuramente fondi a livello parrocchiale per andare avanti più di un centinaio di ragazzi che giocano e che quindi seguono lo sport del calcio. Speriamo che voi possiate venire tanti e numerosi a questo evento. Noi promettiamo di farvi divertire in quanto oltre allo stand gastronomico c'è anche la possibilità di avere alcuni promettenti band. L'orario è circa dalle 18 alle 24 dove potrete accedere allo stand gastronomico. Grazie ancora. Si mangerà questo stand? Si mangerà dalle piadine, alle bruschette, ai cosi, alle patatine fritte e via dicendo, insomma, vi promettiamo roba genuina e che possa farvi star bene e birra a volontà via, diciamo. Per uno scopo molto benefico. Benefico, molto benefico in quanto appunto cerchiamo di dare un futuro migliore a questi ragazzi. Questi ragazzi, esatto.